Grazie a tutti. Ok. Vi raccontiamo un po', ma tu sei più o meno un'informatica, tu più o meno pure, voi due? Pure tu? Ingegnere informatica e lei invece è piccolina. Comunque studio informatica, giusto? La mia presentazione normalmente cerca di convincere le ragazze a studiare informatica. Il progetto nerd, vi racconterò che cos'è il progetto nerd, che poi è la maglietta che ho in questo momento. E' un po' la mia storia. Io sono Floriana Ferrara, sono diplomata in informatica, laureata in informatica, borsa di studio al CNR di Genova, sempre in informatica, da sempre in IBM, era il mio sogno nel cassetto e sono riuscita a realizzarlo. Ho fatto diversi lavori all'interno dell'IBM. La cosa bella dell'IBM è che ti permette di fare tanti tipi di lavori in diversi settori, anche con diversi ruoli. L'unico ruolo che non ho mai occupato è quello del sales perché non so vendere. E anche con, sapete, con i WCumpra, di sicuro non sono mai riuscita ad abbassare il prezzo, negata, quindi i sales come venditore non ci sono mai stati. Però ho fatto di tutto, ho fatto dal PM, dal programmatore, dal tester, dal PM. In questo momento sto facendo il manager. E sto facendo il manager di una squadra molto particolare. Quasi tutti i ragazzi che vedete qui fanno parte della mia squadra e ci occupiamo di intelligenza artificiale. Sapete che cos'è? Noi creiamo progetti innovativi per i nostri clienti, sia per quanto riguarda quelli privati che per quelli pubblici. La mia più bella invenzione l'ho fatta all'età di 43 anni, quando è nato il mio cucciolo. Sono un master inventor, quindi sono un'inventrice a 23 brevetti, sparsi per tutto il mondo. Perché siete qui dovevo convincervi che l'informatico è un personaggio cool, ma lo sapete già. Per me addirittura l'informatico è un artista, per chi fa design ancora di più, perché esprime se stesso e crea arte. Spesso le ragazze che non conoscono il mondo dell'informatica domando sempre qual è l'opera d'arte più visitata, più conosciuta. E lì ovviamente va dalla Mona Lisa, oppure più letta, la Bibbia o la Divina Commedia. In realtà Facebook a livello mondiale non è battuto da nessuno. Quindi qualcosa di informatica che è considerato un'opera d'arte, che poi può piacere o meno la cosa è opinabile, ma anche c'è gente che non piace la Divina Commedia o persone a cui non piace la Mona Lisa. Per esempio in Italia ho scoperto che va tantissimo a Whatsapp. Noi siamo il mondo, il paese con più utenti Whatsapp. Quindi abbiamo battuto Facebook. In Italia piaceremo Whatsapp a Facebook, però sempre informatica si tratta. Paul Kree, voi che siete del design, lo conoscete sicuramente, diceva che disegnare e portare una linea a fare una passeggiata, a me piace dire che programmare è portare un bit a fare una passeggiata. E quindi siamo delle artiste, no? Siamo informatiche, perché usiamo il monitor come se fosse una tela. I pennelli per noi sono, è la tastiera, linguaggi di programmazione o linguaggi di programmazione o qualsiasi meccanismo, qualsiasi interfaccia utilizziamo per istruire il nostro PC, sono i colori. Perché siete, non fosse state convinte che l'informatica era qualcosa di cool, vi avrei convinto adesso. Prima di tutto dicendovi che l'IBM è la società più innovativa al mondo, questo lo sapevate? Sono 24 anni di seguito che è considerata la più innovativa. E' al primo posto seguita quest'anno da Samsung. Quest'anno abbiamo sottomesso 8.000, nel 2016, 8.808 brevetti. Come vedete c'è un certo distacco con gli altri classificati. Ne facciamo tantissimi. E' un piacere, un onore dirvi che sia io che i ragazzi che oggi vi seguiranno sono anche degli inventori. Quindi di sicuro fare l'informatico è cool, l'IBM è cool. Quindi quando un informatico cerca un posto di lavoro, di sicuro lo dovrebbe cercare in IBM, secondo me. Per questo era il mio sogno nel cassetto. Una cosa che vi racconto alle ragazze, non so se voi lo sapete, è come si misura l'innovazione. Lo sapete? Che cosa succede a livello mondiale? Vengono presi in considerazione alcuni indicatori. Sono 25 indicatori. Li dividiamo in tre categorie differenti. Gli elementi abilitanti che sarebbero gli esseri umani, coloro che producono innovazione. Gli attività che si fanno, quindi la ricerca che fa sia nel privato che pubblico, e poi i risultati. I risultati che potrebbero anche essere il numero di brevetti stesso. Secondo voi, chi è il primo al mondo per l'innovazione? Come nazione o come continente? No? Lo era fino a due anni fa. E' stata superata. Corea del Sud. Corea del Sud. Da due anni. L'Europa che posto è? Mi piace. In questo momento tra i primi cinque al quarto posto. Eravamo al terzo, e poi la Corea del Sud ha fatto la scalata. Quinto posto, quarto posto, terzo posto, e ci ha fatto diventare quarti. Quindi il primo posto è per la Corea del Sud, poi l'USA, Giappone, e al quarto posto c'è la comunità europea. Però il problema è che non siamo stabili al quarto posto. Sentiamo un po' di fiato sul collo di alcuni di questi paesi che vedete sotto. Ma non proprio quelli dietro di noi, quelli un po' più giù. Quelli che fanno parte dei paesi che vengono chiamati BRICS. I paesi emergenti. Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Si pensa che per il 2020, se la comunità europea non dovesse fare nulla, questi paesi potrebbero superarci. Quindi dal quarto posto, e quindi tra i primi cinque, finiremmo al nonno posto. Dobbiamo fare qualcosa. E per fare qualcosa la comunità europea si è impegnata tantissimo. Avete mai sentito degli H2020? Horizon 2020? La comunità europea ha creato dei fondi a livello europeo che dà a dei progetti, fa dei bandi di progetti. Però questi bandi di progetti non devono essere fatti soltanto da un'azienda o soltanto da un centro di ricerca, ma devono essere fatti da un insieme di centri di ricerca e di aziende sparsi per l'Europa. Quindi lei fa questi bandi su diversi settori, la sicurezza, la user experience, l'health, l'health in generale sia per bambini, per oncologia, su tutto, ne ha fatti tantissimi, non so quanti milioni di euro ha messo a disposizione, e che cosa fa? Durante questi bandi uno dei motivi per cui si vince questo bando e poi hai questi fondi è se, solo se, hai una compagine variegata. Quindi va bene l'IBM Italia dell'Italia, ma ci deve essere anche un paese dell'Irlanda, ma ci deve essere anche un paese della Lettonia. Se ci sono 9-10 paesi, 9-10 aziende o centri di ricerca di paesi differenti, fa sì che loro possano fare con i fondi dell'IBM qualcosa di innovativo, dei progetti innovativi. Progetti innovativi, quindi più innovazione, più innovazione ma anche sparsa, quindi non solo quelli che erano già innovativi, continuano ad essere innovativi, ma i centri di ricerca in paesi tipo la Lettonia, facendo un progetto di ricerca innovativo, fanno alzare la media del loro paese, che è chiara più o meno. Quindi quelli più innovativi tirano quelli meno innovativi per alzare la media della comunità europea. Secondo voi l'Italia a che posto è nella comunità europea? Tra i primi 10, mi piace il suo ottimismo. 28. No, no, no. La comunità europea è formata da 28 paesi, e se la Svizzera facesse parte della comunità europea, vincerebbe la Svizzera. Non facendo parte della comunità europea, chi vince? Il primo posto? Come? No? No? No. Mi ascoltano. La Svezia. La Svezia, la Finlandia, e quindi poi vabbè la Svizzera che non fa parte della comunità europea, sono uno dei dei paesi più innovativi nella comunità europea. Ma di brutto, eh? La Svizzera e la Svezera da soli potrebbero battere anche la Corea del Sud. Il fatto di far parte della comunità europea e quindi di dare come valore la media, poveracci, si abbassano. Ora qui vedete, no? C'è la striscia blu che rappresenta la media della comunità europea. Quelli a destra sono quelli più innovativi, quelli a sinistra sono meno innovativi. Per facilitare il tutto, la comunità europea si divide in quattro grandi categorie, dai più innovatori ai meno innovatori. Tra i più innovatori c'è la Germania, come stavate dicendo voi. Tra i innovatori buoni, ma non proprio al primo posto, vediamo che c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, c'è il Belgio. Sotto la linea della media, ahimè, ci siamo noi. Siamo al sedicesimo posto. La cosa incredibile che mi ha sorpreso è che se uno si impegna, veramente può fare il passaggio. Vi dicevo prima della Corea del Sud, ma nella comunità europea, l'Irlanda che era nella terza categoria, ma messa abbastanza sotto, ha fatto una scalata pazzesca in cui in otto anni è riuscita a finire nella seconda categoria. Se non mi sbaglio, all'ottavo e al nono posto. Quindi è una bella scalata. Cosa che potremmo fare anche noi. L'Italia si sta impegnando. E nel nostro caso l'IBM Italia si sta impegnando particolarmente, perché appunto ha creato questa squadra che guido e creiamo tantissima innovazione, creiamo progetti particolari, progetti innovativi e noi amiamo dire che creiamo disruptive innovation, innovazione che non ti aspetti. Questo era quello che vi ho raccontato. E allora questa disruptive innovation su che cosa si basa? Si basa sul cognitivo. Il cognitivo sarebbe l'intelligenza artificiale. Ma noi di IBM Italia amiamo di più dire l'intelligenza aumentata. Cioè quando un sistema ti consente di aumentare la tua intelligenza. In cosa siamo carenti noi? Nella memoria? Nella velocità di calcolo? Poi per tutto il resto ce l'abbiamo. La creatività, le emozioni in quello che facciamo, la passione. E questo non ce lo può dare un sistema esterno. Il sistema esterno ci può velocizzare in ciò che o è più noioso, o più complicato o più oneroso dal punto di vista di mente, di operazioni che deve fare la testa. I sistemi cognitivi comprendono il linguaggio naturale. Quindi l'intelligenza artificiale comprende il linguaggio naturale, ma non lo comprende da solo. Noi lo dobbiamo istruire. Altrimenti non sa nulla. È come un bambino a cui bisogna insegnare qualsiasi cosa. Una bella testolina, ma bisogna insegnare. Ovviamente non prenderà mai il nostro posto, questo poi ne discutiamo dopo, perché comunque non ha la curiosità che invece c'è in un bambino quando vuole apprendere, o in qualcuno che vuole apprendere. Voi se siete qui oggi, anche perché siete curiosi, nessuno vi è obbligato ad esserci. Nel nostro caso, per quanto riguarda la società mia, che amo, non so se si è capito, abbiamo Watson come sistema, come piattaforma di intelligenza artificiale. Questo sistema capisce, comprende, elabora e risponde. Ma dobbiamo sempre insegnarlo noi umani. C'è chi dice che un domani le macchine non avranno bisogno dell'autista perché si muoveranno da sole. E qui dicono, prendono il nostro posto. No, perché le macchine, è vero che si muoveranno da sole, ma sempre un essere umano gli dirà dove deve andare. Ci aiuterà e noi ci concentriamo. Finalmente potremo usare il cellulare, come amiamo fare mentre si guida spesso, senza problemi, perché tanto abbiamo un autista. Il cognitive computing, quindi l'intelligenza, questo Watson, vedremo che mette a disposizione dei servizi. Chi interagisce con un'intelligenza artificiale, chi interagisce nel nostro caso con Watson, lo farete voi oggi, non deve programmare, quindi per questo non c'era bisogno di skill di programmazione, ma deve istruire, quindi deve essere, quello che vi ho detto prima, una persona abbastanza brillante da istruire qualche di un altro, da dargli qualcos'altro, competente in un certo settore, e ovviamente non si può sapere tutto. Watson mette a disposizione dei servizi, dei servizi di conversation, se si vuole fare la chatbot, di analytics, se si vuole fare delle analisi, per qualsiasi ambiente, per qualsiasi sistema, ci sono dei servizi, c'è qualcosa di già pronto che viene utilizzato. Quindi chi lo utilizza non deve essere per forza un informatico, perché già l'informatico ha fatto il suo lavoro, ha creato questi programmini, questi servizi, e messi lì a disposizione dell'utilizzo di chiunque. Il progetto NERD che facciamo oggi, di quale vi volevo parlare oggi, non è roba per donne. La cosa simpatica è che meno di due settimane fa siamo andati a fare questo progetto NERD durante lo STEM, che sarebbero le aree, le materie scientifiche, in una grande città, non dico il nome. E chi ha fatto questa organizzazione, vedendo che c'era scritto NERD, punto interrogativo, non è roba per donne, mi ha fatto trovare 200 ragazzi invece che 200 ragazze, perché non era roba per donne. E non è stato facile, perché voi siete carini e sorridenti, trovarmi davanti 200 ragazzi di 16 anni è stato abbastanza complesso, ma già la partenza, perché al buongiorno non rispondeva nessuno. Quindi dopo che abbiamo stabilito le regole, cioè io dico buongiorno, voi mi rispondete, io faccio le domande, dopodiché siamo riusciti ad andare avanti. Non è stato facile. Dobbiamo creare delle chatbot. Le chatbot sono chat più robot. Quindi avere, ad esempio su WhatsApp, invece di avere una qualsiasi vostra amica, mamma, compagna di classe, collega, avete dall'altra parte un'intelligenza artificiale già preparata e pronta a rispondere. Ma pronta a rispondere cosa? Quello per cui state cercando la risposta. Spesso quando prendete WhatsApp e vi interessa un'informazione, cercate nella vostra rubrica la persona che ha quella risposta, che ha la competenza per risponderli. Tu sai che in questo periodo del compleanno di nonna apri WhatsApp, chiedi a tuo fratello, chiedi a tua mamma, chiedi a un parente, perché sai chi ha quella competenza, chi ha quella conoscenza. A che ora era l'evento stamattina? Fosse venute in un gruppo, sapendo che c'è una precisissima che si segna tutto, avreste mandato un WhatsApp alla precisina del gruppo a che ora è l'evento. Con un professore, se uno non è andato a scuola e non ha fatto i compiti e ha su WhatsApp il professore, gli chiede prof, ma per lunedì che compiti abbiamo? Perché si sa che il professore è il professore della nostra classe, della nostra materia e avremo lui sicuramente a lezione lunedì e lui sicuramente sa che compiti ci si aspetta. Noi eleggiamo lui giustamente come persona competente. Quindi nelle chatbot se avessimo dall'altra parte delle intelligenze artificiali già preparate che hanno delle informazioni, ogni volta che abbiamo bisogno di una risposta contattiamo quella chatbot quando le farmacie di turno se ci fosse una chatbot che sa in Italia gli orari di tutte le farmacie e avessimo farmacia nel nostro elenco contatteremmo questa chatbot e potremmo chiedere a che ora a Torino dove a Torino c'è la farmacia di turno. Questa chatbot vede geolocalizzazione dove siamo? Sa che siamo a Torino vicino a Porta Nuova e ci dice in quali intorno dov'è la farmacia di turno e dall'altra parte ci sembra che ci sia una persona del comune che ci risponde in realtà è qualcuno che è un'intelligenza artificiale che ogni settimana il comune gli dà in passo gli orari delle farmacie di turno lui lo impara da solo e poi ti risponde e questo è un caso però immaginate su qualsiasi cosa questo perché? perché tutti facciamo delle domande tutti abbiamo bisogno di risposte e qui abbiamo fatto un esempio di possibili utenti da ragazzo dall'inziano da chi va a giro col cane dal disabile che vuole sapere a che ora passa quell'autobus che permette di salire se è un disabile un tempo che si faceva si chiamava qualcuno competente o al telefono e si aspettava la risposta se era per il comune si sarebbe chiamato il content center del comune in questo momento abbiamo tantissime metodi spesso andiamo su google scriviamo quando è la farmacia di turno è aperta a torino ognuno di noi ha un suo sistema preferito di utilizzo facebook whatsapp twitter una chatbot ti permette di creare una conoscenza una base di conoscenza di quello che si vuole e interagire e interrogarlo con il sistema che più ci piace per un interaction design è chiaro avere l'usabilità di quella conoscenza tramite un sistema che più ti ci ritrovi tu quindi a me mi piace colloquare con whatsapp poi in mente le informazioni le chiederei whatsapp mio figlio di 15 anni che al quale piace tantissimo facebook le domande le farebbe via facebook ma si possono fare via twitter via messenger oppure si potrebbe avere un piccolo robot che ha la stessa conoscenza e potremmo fare le domande quindi il sistema è unico ed è su un cloud da qualche parte nel mondo e il modo con cui il sistema con cui fai queste domande può essere uno qualsiasi non c'è neanche tanta fatica per mettere a disposizione sui diversi sistemi quindi le chatbot sono applicazioni che consentono di creare dialoghi interattivi in linguaggio naturale attraverso questo si possono avere puntualmente delle risposte e si creano delle conversazioni quindi non deve avere un sistema un meccanismo per cui poi dall'altra parte potrebbe non risponderti così come chiediamo oh ma mamma a Roma oh ma mamma quando fa il compleanno il sistema anche oh ma mamma quando è il compleanno sa rispondere a Torino non so come si direbbe in maniera gli esperti dicono che nel giro di pochissimo ma 18 mesi ci sarà il boom di queste chatbot perché così come abbiamo avuto abbiamo i contact center così come ogni ogni azienda ha la sua FAQ alla fine di tutto il suo sito web dove andare a cercare domande e risposte statiche tu cerchi di riconoscere fra tutte le domande e le risposte quella che più ti interessa tutte le aziende ricorreranno alle chatbot perché sarà un altro sistema per rispondere ai propri clienti in maniera più veloce in maniera più innovativa quindi ci sarà un boom noi lo stiamo vedendo perché abbiamo una richiesta di 100 stiamo seguendo 140 clienti tutti i 140 ci sono chiedendo le chatbot ci chiedono anche altro ma di sicuro le chatbot e sono dicevo prima sia privato che pubblico e questa sarà per questo dicevo prima questo è il messiere del futuro ma del futuro non tra chissà quanti anni noi stiamo facendo dei prototipi e loro stanno verificando attraverso questi prototipi la vera la reale effettiva innovazione quanto questo facilita la tua esperienza di cliente quando ti avvicini ad un ad un prodotto quindi ad un'azienda e questo ti permetterà di avere subito le risposte e non devi creare più il sito web per l'esperienza del content center andare a modificare le tue brochure metterai sempre informazioni sul tuo cloud sul tuo Watson che hai a disposizione e lui tutte le volte imparerà e risponderà in qualsiasi sistema ma in qualsiasi maniera come dicevo l'ho detto più volte in qualsiasi maniera il cliente vorrà interagire un'unica preparazione e ne modi differenti con cui interagire adesso la bianca vi farà vedere come effettivamente si istruisce una chatbot prima di andare avanti vi volevo raccontare quella che più ci ha colpito quella che più ci ha emozionato degli utenti che ci hanno contattato ci ha contattato il campus miomedico che è un'università e anche ospedale di Roma privato chiedendoci di fare una chatbot per il Parkinson per i malati del Parkinson perché il 26 novembre del 2016 ci sarebbe stata la giornata internazionale dei malati per il Parkinson eravamo un po' stupite e bianca ha guidato l'istruzione ha istruito con Elisabetta il sistema eravamo un po' sorprese come se veramente questa chatbot potesse essere utile a dei pazienti che hanno una malattia così seria degenerativa il giorno dell'evento bianca e Elisabetta l'hanno istruito benissimo questa chatbot rispondeva tranquillamente le domande che ci avevano passato era quello che lui aveva appreso si potevano fare con i neurologi del Parkinson che seguono il Parkinson nell'ospedale avevano fatto anche diversi test funzionava benissimo qualsiasi domanda la nostra chatbot rispondeva era istruita la nostra diffidenza era quanto dei malati di Parkinson accettassero una cosa del genere siamo andati a un evento pienissimo di persone malate di Parkinson o loro parenti che li avevano accompagnato ed è toccante non so se voi li avete mai visti sono persone che ti toccano dentro perché vedi che non hanno più l'abilità dei loro movimenti quindi andavi a raccontare da oggi se vuoi interagire con il tuo neurologo hai una chatbot in cui invece di risponderti il tuo neurologo a tutte le tue domande a tutte le tue paure a tutti i tuoi dubbi ti risponde a un'intelligenza artificiale io ho detto ci buttano i pomodori non mi voglio alzare per tutto per tutto l'evento c'era il capo il primario di neurologia che mi diceva tranquilla presenta diciamo no tagliamola non è possibile si facevano tante domande erano molto interattivi aspettavano le risposte del loro durante l'evento li fermavano in continuazione avevano tantissime domande da fare anche perché parlavano di nuove cure nuove cure del quale noi avevamo istruito il nostro chatbot però una cosa che te lo diceva un umano una cosa che te lo dice un'intelligenza artificiale insomma mi prende per il polso il primario mi porta sul palco faccio la presentazione un applauso pazzesco tutti emozionati io ho fatto loro la domanda ma come mai vi piace? e loro hanno detto perché uno è il mio neurologo che ti ha dato le informazioni da inserire quindi questa intelligenza artificiale è stata istruita da tutte le competenze che ha il mio neurologo quindi o chiedo al mio neurologo o chiedo come se chiede che andassi a spirciare sui suoi appunti sono tranquilla quindi la fiducia che ho per il mio medico è la fiducia che ho in questa chatbot e poi gli ho detto ma sai che nel momento in cui tu hai il problema non ti sta rispondendo lui immediatamente ma ti sta rispondendo qualche di un altro ti sta rispondendo un'intelligenza artificiale e carinamente loro hanno detto ma quanto può essere di sollievo per noi sapere che quella domanda che stiamo facendo al nostro medico normalmente lui risponde non ti preoccupare è la domanda che mi fanno sempre non ti preoccupare la domanda più ricorrente è quando i pazienti cominciano a trascinarsi la gamba significa che ha avuto un'evoluzione una degenerazione la malattia e tutti sono preoccupati e vogliono interagire con il loro neurologo io ho detto stavate raccontando questa cosa prima come mai il fatto che vi risponda un'intelligenza artificiale non vi blocchi non vi raffredda perché noi ci tranquillizza veramente non è la prima volta che c'è questo problema se è stato istruita l'intelligenza artificiale questo problema al professore che l'hanno già riportato più persone e quindi lui ha istruito questa intelligenza artificiale non sono l'unico questo sintomo del Parkinson non lo sto avendo solo io ce l'hanno avuto anche gli altri addirittura così fatta frequentemente questa domanda che lui ha ritenuto opportuno mettere lì anche perché le domande normalmente nei sistemi di chatbot si è verificato che l'80% sono domande note domande che ci si aspetta e quindi può essere istruita un'intelligenza artificiale il 20% sono domande inattese ovviamente c'è sempre quel caso specifico e in quel caso se la domanda fatta da una da una persona malata di Parkinson o di un suo parente che non era presente all'interno dell'istruzione all'interno della chatbot c'è un cagnolino che vuole dire la sua fosse stata presente che cosa succedeva la mi ha distratto il cagnolino l'intelligenza artificiale risponde dicendo questa domanda non aspetta ti contatta ti risponde come un attimo di tempo il neurologo e nel primo momento possibile mandava subito il messaggio il whatsapp al neurologo che sapendo che c'era questa domanda in attesa quindi rispondeva automaticamente subito chiamava il suo paziente dopodiché istruiva Watson su questa nuova domanda che era una domanda non attesa vi è chiaro? ora andiamo avanti lascio la parola a Miss Bianca vai ciao ragazzi già mi sono presentata quasi con tutti io sono Bianca e lavoro in IBM da due anni e mezzo mi sono laureata in ingegneria biomedica quindi la tecnologia mi è sempre piaciuta e mi è sempre piaciuta la tecnologia finalizzata al supporto dell'uomo al supporto quindi nostro come già Floriana aveva anticipato cos'è un'intelligenza artificiale non è nulla di fantascientifico da vedere lontano da quella che è la realtà di oggi ma è un qualcosa che è a supporto dell'uomo un qualcosa che stesso l'uomo addestra per utilizzarlo per i suoi simili e quindi possiamo immaginarla come un aiuto vero e proprio addestrato a supportare l'uomo in qualsiasi settore l'esempio che voglio farvi ragionare un attimo sul concetto di intenzione della conversazione perché sarà utile per l'esercitazione che faremo dopo perché noi costruiremo una chatbot vi farò vedere come è semplice costruire una chatbot non serve sviluppare codice e non immaginate la cosa così ostica anche se siete a digiuno di programmazione e vi faremo vedere come è facile creare un qualcosa una chatbot in questo caso un agente virtuale in grado di rispondere alle esigenze particolari in un particolare contesto innanzitutto vedete qui vi è per esempio un esempio di conversazione di richiesta di un utente ho dimenticato la mia password come faccio ad avere una nuova password non riesco ad entrare nel sito ho bisogno di aiuto non riesco a collegarmi alla fine sono delle frasi che in genere un utente può fare può comporre per chiedere aiuto su un particolare sito per richiedere una diciamo una password un ripristino di di eccetera però sono espresse giustamente in maniera diversa perché noi ci esprimiamo con il linguaggio naturale quindi è questa la fondamentale il diciamo il pilastro fondamentale della costruzione di una chatbot capire l'intenzione dell'utente capire quindi quale è l'intenzione o l'insieme di intenzioni possibili che ci si può aspettare da un utente perché il primo motivo è capire in che ambito costruire una chatbot in che in che settore quindi addestrare la chatbot e quindi predisporre per quella per quella domanda per quell'intent quell'intenzione di conversazione una risposta che è quella desiderata qui vedete tre tasselli fondamentali per la costruzione della chatbot utilizzeremo un servizio che si chiama conversation che è uno dei servizi Watson che si ritrova su una piattaforma di IBM che è IBM Bluemix vi faremo vedere dopo faremo mettere mano quindi siate state tranquille e lo sperimenterete voi con le vostre mani e questi sono i tre tasselli fondamentali di conversation l'intent come già vi ho detto è l'obiettivo che l'utente ha nel momento in cui fa la domanda alla chatbot quindi l'intenzione principale poi vi è un entity che è un qualcosa che aggiunto all'intent caratterizza l'espressione quindi la domanda dell'utente è un qualcosa di aggiuntivo è un ingrediente aggiuntivo che però magari non è l'informazione in sé l'informazione in sé è comunque contenuta all'interno dell'intent e viene specificata con qualcosa in più che è l'entità e poi il dialog non è altro che il flusso di conversazione che comunque viene fatto dall'addestratore di chatbot e quindi vero e proprio l'articolazione della conversazione come la si vuole realizzare vi faccio vedere con un esempio perché magari è più divertente questo è un esempio che abbiamo pensato per un liceo per un'università in quanto molte volte come già Flo diceva prima si può essere se siamo diciamo seguiamo all'esempio una lezione possiamo essere interessati a sapere l'orario le classi a seconda del giorno della settimana delle lezioni e questo infatti vedete questo è proprio il workspace che vi ritroverete dopo sul pc questa è proprio la stessa schermata che vi ritroverete come vedete evidenziati vi trovate intent entities e dialog e qui possiamo iniziare a pensare di creare una chatbot che è in grado di rispondere agli allievi del liceo Pinco Pallino oppure agli allievi di un particolare corso di laurea l'intent come vedete il primo intent che si crea per educazione è l'intent saluti vedete hashtag saluti non è altro che il nome che noi diamo all'intent chiaramente siete liberi di scegliere il nome come volete e queste che cosa sono cosa pensate che sono diversi modi di salutare è chiaro che a seconda del contesto a seconda della formalità pure degli utenti che potranno utilizzare la chat si creano delle variazioni di intent in maniera adeguata allo stesso modo della creazione dell'intent saluti vi è per esempio l'intent in questo caso specifico orario lezioni giusto orario lezioni che appunto è un titolo parlante ti permette di dire per esempio quando si tiene il corso a che ora si terrà la lezione quando c'è tutti i modi in cui noi ragazzi possiamo utilizzare per chiedere un determinato orario della lezione però a questo punto vediamo un po' queste entità vediamo cosa possono rappresentare secondo voi cosa può essere un'entità in questo contesto un qualcosa che aggiunto a quando c'è la lezione da qualcosa di specifico cosa manca alla domanda quando c'è la lezione giusto quindi la materia perfetto allora l'entity non è altro che in questo caso può essere la materia quindi vedete et materie e abbiamo chiaramente tutte le materie che ci possiamo immaginare che ci piacciono meno però in pratica vedete chimica fisica informatica e chiaramente anche in questo caso ogni entità può avere un diverso modo di diciamo di essere chiamata per esempio chimica può essere laboratorio di chimica fisica matematica analisi matematica è chiaro quindi ogni ragazzo può sentirsi libero di chiamare la materia in maniera cioè proprio in maniera naturale con il linguaggio naturale e quindi anche in questo caso si prevede per ogni singolo valore dell'entità materia un set di sinonimi vi sembra naturale giusto? perché non è appunto il modo in cui non è altro che il modo in cui parliamo e vediamo cos'è il dialogo il dialogo quindi nel terzo tab poi vedrete voi non è altro che proprio il flusso che facciamo seguire all'utente nel momento in cui interagisce con la nostra chatbot e vedete come vi sia appunto il primo nodo si chiamano nodi questi blocchi che vedete il nodo di dialogo è saluto l'abbiamo rinominato saluto e poi vedete come spero che si legga si triggered by lì non è altro che l'evento che scatena l'ingresso in quel nodo e quando vedete triggered by hashtag saluti significa che si entra in questo nodo se solo se l'utente saluta quindi se l'utente è educato entriamo lì e in quel caso vi è una risposta che response abbiamo definito ciao sono Watson può farmi domande sugli orari delle tue lezioni e quindi diamo il benvenuto a Watson e gli diamo un'idea di quello che può chiedere se andiamo avanti creiamo un altro nodo l'altro nodo può essere orario delle lezioni e gli eventi che permettono l'ingresso in questo nodo sono ad esempio l'intent riconoscimento dell'intent orario lezioni oppure riconoscimento di una particolare entità che può essere una materia ok qui vedete un qualcosa di particolare vedete più risposte giusto perché in realtà ogni nodo può essere addestrato a rispondere chiaramente in maniera specifica a seconda della domanda specifica abbiamo visto che possiamo avere diverse specifiche a seconda delle materie in questo esempio semplice quindi abbiamo se per esempio si riconosce l'intent orario lezioni e matematica avremo gli orari delle lezioni di matematica come risposta giusto se si domanda invece orario delle lezioni e fisica avremo fisica e così via ed ecco quindi la completa la completezza della risposta ed infine se vedete a fianco in questa banda nera vi è appunto modo di testare stesso dal vostro servizio di conversation la chat quindi voi stesso durante dopo aver addestrato la chat dopo 5 minuti riuscite a vedere la vostra creazione quindi riuscite a mettere proprio mano alla vostra chatbot vi faccio una panoramica veloce anche di un altro esempio che è la chatburger per farvi vedere un contesto completamente diverso di applicazione ma che comunque dà l'idea dell'utilità di una chatbot che appunto abbiamo pensato che essere il chatburger abbiamo chiamato a noi chatburger perché ci sembrava figo allora abbiamo immaginatevi un cameriere alternativo quindi immaginate di andare in un locale e di ordinare con un tablet o con un microfono il vostro il vostro panino dei sogni anche in questo caso creiamo un workspace scegliamo la lingua prima ho dimenticato di dirvi che ci sono varie lingue con le quali si può creare un'istanza di work di conversation quindi si crea un workspace in italiano in questo caso perché utilizziamo l'italiano come lingua e iniziamo a creare degli intent gli intent come li vedete tutta la lista degli intent che abbiamo pensato chiaramente sono inerenti al nostro caso d'uso che è scelta aggiunte scelta salse scelta pane scelta carne panino completato eccetera perché chiaramente abbiamo tutte scelte inerenti alla creazione all'ordinazione di un panino vedete come nel caso per esempio di scelta pane vi faccio l'esempio ci sono variazioni relative alla scelta del pane che panini avete quali farine ci sono quali sono i tipi di pane tutti i modi in cui naturalmente noi possiamo chiedere i tipi di pane a disposizione queste sono è un modo alternativo di caricare le entità perché chiaramente se pensate nel caso delle materie di una singola classe ok ci siamo possiamo pensare oppure degli ingredienti del panino possiamo pensare a caricare le entità come vi ho fatto vedere prima inserendo le varie variazioni però nell'ottica di ottimizzare e caricare anche delle entità che possono essere anche decine centinaia di entità si semplifica molto il lavoro creando dei fogli che sono fogli si chiamano csv con diciamo tutti i valori separati da virgole essenzialmente in cui abbiamo il nome dell'entità il valore dell'entità e la variazione quindi il sinonimo quindi è chiaro che abbiamo per esempio nel caso in cui pane classico bianco pane integrale pane sesamo eccetera caricando questo file abbiamo la stessa cosa di prima quindi abbiamo at aggiunte at pane eccetera eccetera e tutte le tipologie di pane con i tipi di sinonimi andiamo al bello al dialogo chiaramente immaginate che la conversazione con un cameriere sia più articolata rispetto alla conversazione con l'orario delle tue lezioni quindi sarà in grado un cameriere di domandarvi la tipologia di pane che preferite voi ordinerete un particolare tipo di carne aggiungerete delle salse non volete aggiungerle quindi il tutto deve essere guidato e alla fine devi avere un'ordinazione precisa onde evitare fraintendimenti con la cuscina e quindi quello che vedete è più o meno simile a quello che abbiamo visto prima ma è più complesso in quanto in ogni passo si deve tenere traccia delle richieste precedenti e questo è possibile aggiungendo qui nello spazio nero che vedete nella risposta vi è una vista advanced che voi potete cliccare e poi magari iniziare a personalizzare per tenere traccia dell'ordinazione quindi il dialogo non solo tiene la conversazione detta ai passi della conversazione ma deve anche tenere traccia dell'organizzazione e quindi di tutta la conversazione questo si fa attraverso le variabili di contesto però questo è solo per una vostra curiosità perché se voi andate su ibmblumix.com voi potete creare ora vedrete con noi un account free di 30 giorni e potete divertirvi andando a leggere anche le guide che vi sono sono aggiornate in genere di settimana in settimana ci possono essere dei cambiamenti e vi divertite creando dei servizi in questo caso per esempio conversation questi sono i vari nodi che abbiamo pensato per la scelta del pane poi vi è scelta delle aggiunte scelta delle carni eccetera queste sono le risposte condizionate come abbiamo visto prima però chiaramente in questo caso abbiamo una vista un po' più complessa rispetto a prima perché abbiamo anche memoria di quello che è avvenuto precedentemente vedete alla fine non c'è non nient'altro che quello che vedevamo prima e poi vi è un ultimo comando che può esservi utile per saltare di nodo in nodo chiaramente quando abbiamo soltanto un intent come il caso precedente questo non era diciamo necessario ma quando il cameriere si deve ritrovare a guidare l'utente finale della paninoteca nella scelta del panino non può aspettare la domanda dell'invitato del cliente ma deve chiaramente coinvolgerlo nella conversazione e nell'ultimare l'ordinazione il prima possibile quindi con il jump to che poi vedrete è semplicemente un tasso che si ritrova in ogni nodo ci si può spostare al verificarsi di quella condizione di quella risposta particolare intent particolare entity nel nodo successivo quindi si passa dalla scelta del pane alla scelta della carne alla scelta delle salse alla scelta delle aggiunte ed infine al panino completato sembra complicato ma non lo è è questa che vedeve è la chatburger che è poi finalizzata in cui non si riesce molto a leggere ma c'è tutta l'introduzione quindi di Watson chatburger che chiede quindi al cliente della paninoteca il panino desiderato e il cliente risponde vorrei il pane bianco quindi un intent più l'entity bianco l'intent del pane più l'entity bianco e quindi lui tiene nota prende nota del pane bianco poi gli chiede giustamente con il jump to saltando nel dialogo va a chiedere il tipo di carne di burger che preferisce lui preferisce il manzo vorrei il manzo preferisco il manzo poi vi è una serie di aggiunte sì il cheddar per esempio ed infine vi è la salsa quindi non c'è burger senza salsa e quindi si richiede un particolare tipo di salsa e quindi quello che vedete è che alla fine il nostro chatburger ha completato l'ordinazione quindi il tuo burger di pane bianco carne di manzo cheddar in aggiunta è già in preparazione spero che ti piaccia e buon appetito quindi questo è un esempio particolare però alla fine calato in una realtà abbastanza frequente a noi che ci richiamo è una parinoteca e quindi pensate che possono esserci migliaia di contesti di applicazione vi potete divertire creandone uno in particolare iniziate a pensare ad uno un contesto che vi può interessare perché dovrete crearne una a breve ok quindi questo è tutto ci richiamo penso flo nello spazio di là grazie a tutti 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 grazie a tutti